Dal ricovero nel reparto pesarese di psichiatria di Muraglia alla detenzione in arresti domiciliari nella stessa casa in cui il 20 novembre scorso uccise la moglie Rita Talamelli. Almeno per il momento sembrerebbe questo l'avvio del percorso detentivo per Angelo Sfuggiti, settantene fanese arrestato per omicidio volontario della moglie. La procura ha vallato la richiesta dell'avvocato difensore Santi di modificare la misura cautelare in carcere con i domiciliari anche in seguito ai diversi tentativi di suicidio dell'uomo. Spetterà il GIP l'ultima parola sulla pena detentiva nei confronti di un delitto arrivato al culmine di un decennio di esasperante convivenza con le patologie psichiatriche della moglie ritenute sempre più ingestibili. Omicidio arrivato al termine dell'ennesima lite familiare terminata con una collutazione degenerata nello strangolamento della donna e nel susseguente tentativo di suicidio di sfuggiti ingerendo barbiturici. Il tutto fra le mura domestiche della casa bifamiliare di via Montefeltro dove i figli della famiglia vivevano al piano sottostante e a breve è destinato a tornare anche il padre in regime di domiciliari.